Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Call of Duty Ghost perchè proprio oggi mi voglio fare del male voglio giocare a sto gioco per vedere se effettivamente è cambiato qualcosa dal vecchio code, cioè da prima delle patch, perchè io sul computer sto cazzo di gioco non lo apro da secoli e quindi sono uscite davvero un milione di patch ho fatto sempre gli aggiornamenti ma veramente non ho più giocate, quindi voglio vedere se effettivamente è cambiato qualcosa, ma secondo me non è cambiato un cazzo perchè già praticamente mi sta laggando il mouse cioè il gioco sta andando a 90 fps ma veramente mi sta laggando il mouse è uno schifo sto gioco ma come l'hanno fatto col culo e poi vanno a fare Call of Duty Advanced Warfare ma Advanced Warfare è un cazzo ma vattene a fare in culo guarda che non muore veramente muori figli botta gioco rotto è un gioco veramente rotto cazzo eh, porco oh, vattene a fare in culo ma moronno mio gioco del cazzo come si fa a fare un gioco così di merda Cristo Dio guardate come cazzo sta laggando cioè io sono un amante di Call of Duty ma veramente non l'ho visto ma anche è uscito assurdo cioè io sono un amante di Call of Duty ma veramente sta cosa non si può vedere sto gioco è fatto male vi prego cazzo vi prego spero che Advanced Warfare almeno sia un pochetto meglio cioè Black Ops 2 mi piaceva un sacco Black Ops 1 mi piaceva un sacco Modern Warfare 2 mi piaceva un sacco ma perché hanno fatto sto schifo? perché? che palle allora, vediamo vediamo magari sono io oddio oddio una granata così alla random no se mi ammazzo è un bestemmio forse non è chiaro che devi morire oh, vattene a fare in culo magari poi sono io che sono rotto e non so giocare ma ma che cazzo da dove sei spuntato? oddio cioè veramente non si riesce a capire un cazzo poi ho trovato un clan il clan del GFX poi in squadra io c'ho il Baron perfetto cioè praticamente siamo immortali perché abbiamo il Baron va bene oh, guarda che sei figlio di puttana adesso ti voglio coltellare ma cosa cazzo è stato? ho detto Facebook manda messaggi in altri ma non ha senso questo gioco cioè poi lagga veramente cioè ho ottimizzato malissimo cioè sul mio computer dovrebbe andare filante come chissà che cosa ma invece è uno schifo vattene a fare in culo cazzo chi mi ha ucciso? non so nemmeno chi mi ha ucciso perché dov'è? dov'è questo che sta sparando? dove sei? dove sei cazzo? dove sei? porca puttana dove ca... vaffanculo dove cazzo sei? ok ma guardiamo il radar l'hanno messo magari quello forse dovrebbe funzionare almeno quello poi non lo so se effettivamente funziona ah oh vai a morire ok muori oh ok iniziamo a performare adesso iniziamo a performare già già va molto meglio certo quando mi trovi nemici ritardati davanti riesco a uccidere poi però lagga schifo e non si riesce a uccidere un cazzo cioè io praticamente per spostare il mouse devo muoverlo di 700 metri e non è un problema di sensibilità è proprio perché va a scatti cioè guardate guardate non so se lo state vedendo nel video così guardate che come cazzo va a scatti io lo muovo fluido il mouse Cristo di Dio che scempio 4 uccisioni 6 morti non si può non ci credo vabbè va poi anche io sono gliene metto del mio cioè si muove a scatti non so se voi nel video riuscite a notare ma è veramente una cosa assurda cioè hanno smerdato ancora di più sto gioco cioè sono uscite ma vai a spari in cu sono uscite via sono morto certo maria guardate dove mi prendeva assurdo 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 cioè poi è ingiocabile guardate guarda a scatti a scatti a scatti a scatti a scatti io mi sto muovendo fluido assurdo ma come possiamo ma magari è un problema del mio computer veramente ma comunque tutti quelli che hanno installato questo gioco dicono che è la merda quindi quindi non lo so fate un po' voi come cazzo sia quindi è veramente una cacata dove sto morendo da dove sto morendo da dove vaffanculo ragazzi adesso mi sento una persona completa tasto destro dove cazzo elimina i contenuti locali ok sì sì tasto destro elimina i contenuti locali elimina oh sì adesso mi sento una persona completa oh cristo il microfono gioco del cazzo ah sì è